Dai, su, bevi un goccetto all'Uanna tu. No, scomenta, non mi piace. Eh, da. Ma che stiamo festeggiando? Come che si festeggia? Ma non ti ricordi? Stiamo per diventare nonni. Valerio si sposa. Stefania aspetta. Ma perché fai così? Un bambino è una benedizione. Vedrai che è una cosa che ci cambierà la vita a tutti quanti. Ma chi ti ha detto che voglio cambiare la mia vita? Ci ho messo 60 anni per farla così e arrivi te e me la cambi? Che lavoro fai? Il cambiatore di vite? Eh? Ma che ne sai dire? Cambia la vita, cambia. Ma che me cambi? Ma perché taciti? Stammo assenti. No, stammo assenti a me. Ma che ti sei messo in testa? Ma come lo fai campare sta ragazzino? È ragazzino! Sto ragazzino? Come lo fai campare? Con Batman lo fai campare sto ragazzino? Stai calmo. Sto calmo! Sentiamo tuo figlio. Il problema è che mi servono i soldi. Chi ci potrebbe da? No. Forse non mi so spiegato bene. Forse. Spiegate. I soldi che mi servono a me me li devi dare tu. E i soldi che devo da te a me? Chi me li dà? E dai? Sta a sentire il tuo figlio. È tuo figlio. Sì, ma è pure il tuo. Fammo metà per uno. Allora, dì a mamma e a papà. Che ti serve per lo de mamma? Una cinquantina de mila d'euro. Pensavo peggio. Eh no, no, perché quelli sono solo pa' a cerimonia. Ah, sono pa' a cerimonia. Perché poi mancano quelli per vestito, il bomboniere, per i confetti e quelli per gli inviti. Ti ha fatto tutto il conto, leggi. Poi in altri diecimila euro per viaggi di nozze. E dove andai? Messico e Guatemala. Fa pure Abruzzo e Molise, no? Tanto ci vai da quella parte. E poi mettici pure minimo quindicimila euro per pranzo. E che facciamo? Una bruschettata sulla spiaggia? Che facciamo? La period time? Ma fammo un pranzo come Cristo comanda? Champagne, ostriche, caviale. Poi? E poi c'è il filmino con le foto. E perché fa? Per ricordo, no? Ah, perché pensi che te la scordi quella giornata? Quella sarà l'ultima felice della vita tua. E forse pure della vita mia. Ma che stai a dimanogliare retta, Stefano? Non mi dare retta. Dai, insomma, quanti soldi ti servono? Trecento e centocinquantamila euro. Ma mi sto pressa a pochismo, centocentocinquanta. Devi dire, duecentomila euro. Ma papà, ma che mi sappia per culo? Sì, ma hai cominciato te, però.